Ciao ragazzi, prima di andare al video vi ricordo di passare su Twitch, stream quasi tutti i giorni E se giocate a Fortnite, codice creatore danni xxv nello shop Se shoppate qualcosa, tagcatemi su Instagram che vi riposto Ma adesso andiamo al video Il moved ma dove... ah ok di là Report danni Ehi, capito Ok Guardate un attimo che qua questo qua mi ha rotto in due Ok Ma come il move? De già, la madonna Mentre me l'ha stillata Ehi, capito Buono cazzo Ha fatto un batto di kill, ha preso pure un batto di punti Bene, bene Ci sta, ci sta, ci sta Il moved ma dove... ah ok di là Report danni Eh, capito Cazzo c'è qualcuno che ha scritto report danni Merda Ma c'è qualche altro danni? Report danni Capito, il report danni Che si colla con questo game Cazzo Ehi, capito